E' frattura tra i sindacati confederali e Palazzo Marino per quanto riguarda la vicenda della SEA perché la CGL è assolutamente contraria che Palazzo Marino dismetta le proprie quote della SEA e invita in qualche modo i dipendenti appunto a scioperare. Sentiamo Massimo Scarinzi. La luna di miele tra sindacati e amministrazione comunale sembra essere definitivamente conclusa. Le immagini di Giuliano Pisapia accolto tra gli applausi scroscianti degli iscritti in campagna elettorale sembrano oggi solo un lontano ricordo. La gestione della vicenda SEA non è proprio andata giù a CGL Cisle Will. Dopo il vertice di ieri a Palazzo Marino sembra sempre più chiara la scelta del comune di privarsi di un'altra fetta delle quote di SEA, la società aeroportuale che gestisce le nate Malpensa. Una scelta miope secondo Norio Rosati letteralmente infuriato con Palazzo Marino che lo scorso novembre con la vendita di quasi il 30% della società si era impegnato attraverso un ordine del giorno a mantenere il controllo pubblico di SEA. Poi c'è stato un passaggio in Consiglio Comunale dove è stato votato un ordine del giorno della maggioranza nel quale si garantiva che non si sarebbe andata al di sotto del 51%. Questi impegni oggi non ci sono più, sono stati rimangiati. Io penso che ci sia un problema anche di affidabilità di quelli che sono gli interlocutori. Rosati critica la decisione non solo dal punto di vista dei lavoratori che con la privatizzazione rischiano di avere minori garanzie ma anche dal punto di vista degli investimenti. SEA genera oggi un dividendo annuale per le casse di Palazzo Marino da circa 40 milioni di euro. Venderla garantirà al Comune liquidità immediata ma causerà la perdita di questo tesoretto. Secondo Rosati sarebbe meglio intervenire aumentando l'addizionale IRPEF per i redditi superiori ai 33.500 euro. Lo sciopero annunciato dai sindacati sembra ormai inevitabile. Nei prossimi giorni saranno annunciate le date dell'agitazione. C'è indubbiamente un grosso problema nel senso che noi giudichiamo nel merito le scelte che l'amministrazione fanno. Il nostro giudizio non cambia secondo il colore delle giunte ma penso che sia un problema politico in più per una giunta di centro-sinistra avere un sindacato confederale che unitariamente decide di fare uno sciopero contro una decisione di questa amministrazione.